Facciamo le valigie per Los Angeles. Lello mi aiuta a fare la valigia. Sei pronto a partire solo col papà, amore? Eh? Papà? Oh, perfetto. Direi che ci siamo. Ma toto. Amore, no, no, no. Scusi. No, 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 no. Ma toto. Amore? Ma toto. Amore. Ma toto. Amore. Guau. Guau. Quattro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché il cibo è molto meglio rispetto agli altri compagni, non fate scali e anche gli hostess sono un po' simpatici di quale dimostanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.